La cosa che ricordo molto è il fatto della sua mano, cioè io mi aggrappavo la sua mano da piccolino. La cosa che ricordo è il fatto della sua mano, cioè io mi aggrappavo la sua mano. La cosa che ricordo è il fatto della sua mano, cioè io mi aggrappavo la sua mano, cioè io mi aggrappavo la sua mano. La cosa che ricordo è il fatto della sua mano, cioè io mi aggrappavo la sua mano, cioè io mi aggrappavo la sua mano. Io non ero uno che esultavo abbastanza in modo contenuto, però per me la partita era finita. Mazzola... Rete! 3 a 1! Mazzola... Mazzola... Mazzola...